Oggi durante una telecronaca di una partita, ho sentito che hanno usato i telecronisti il termine DOGSO, cioè a un certo punto il gollo non era buono, il rigore non era rigore perché c'era il DOGSO, è l'acronimo di Denying Anobious Goal Scoring Opportunity, che significa negare la segnatura della rete o un'evidente occasione di segnare una rete, DOGSO. Allora questi qui vanno presi, presi, caricati su un pullman e portati in Siberia con un camion, che l'uomo camion potrebbe guidare, poi dopo scaricati là, dicendo arriviamo subito, ecco questi qui, poi si torna via velocemente, loro rimangono là, gli si lascia due o tre smerigli che se vogliono smerigliarsi le chiappe del culo con lo smeriglio del 15 e andare a fare degli squassi, possono fare quello che vogliono, però là!